Salve a tutti ragazzi e bentornati a Meshowsha, l'eterna sfida tra quest'uomo e il gioco è tornata! Siamo in una nuova Full Draft Challenge! E no, non è il 2017 o indietro, siamo nel 2022, sono appena usciti i Tots della Premier League Che ci frega tanto non li troveremo, ma quella che stiamo andando ad affrontare oggi è una sfida particolarmente speziata Perché è un Full Draft Challenge, ma possiamo vedere solo l'overall! Suggerita a voi! Ragazzi, sto trovando un sacco di idee, grazie a voi continuate a scrivermele sotto nei commenti Perché se è vero che FIFA ci ha abbandonati, stiamo proprio a fare così in rianimazione, almeno così ci divertiamo E io mi sto divertendo un sacco, abbiamo fatto quello con la velocità, solo le Stats, non so se uscirà prima questa, non lo so Le regole sono quelle, io sto sempre così con i mezzi tecnici Nascondiamo tutta la carta, possiamo vedere solo l'overall Qual è la cosa bella? È che ricorda un po' le 190 Food Draft Che non voglio fare, ragazzi, non mi schifo, fai la 190? No, non voglio infazzire, ecco, diciamo che forse con questa modalità ci avviciniamo Perché guardando solo l'overall, a meno che non riconosciamo la rarità della carta Possiamo pure scegliere solo quelli con l'overall più alto, ok? Però nei draft conta pure l'intesa, che riusciremo a fare? Lo scopriremo Ma secondo me viene qualcosa di bello, superiamo 40.000 mi piace anche per questo draft Siamo sempre prima in tendenza, quindi grazie, grazie a tutti, supportatelo, condividetelo Mettete mi piace, se no la vostra squadra perde Eeeh, raga, tempo stringe Ma prima di cominciare, oggi voglio parlare di This Light Un nuovo gioco di ruolo a turni, completamente gratis Sia per Android che per iOS In descrizione trovate il link per scaricarlo E utilizzando anche questo codice avrete un mega bonus, oltre a supportare il canale This Light è ambientato in un futuro prossimo Dove le divinità della mitologia greca, egizia, norrena e cinese Sono state trasportate nel nostro mondo Questo per esempio è Odino Sì, sono state un po' rivisitati, ma questo è il bello L'obiettivo è catturare ed allenare gli Esper Creare una squadra da 5 e sconfiggere gli avversari E possiamo decidere se seguire la storia o giocare in PvP Quindi sfidare altri giocatori E qua ci divertiamo Il gioco ci dà tantissima libertà E dovremmo scegliere la strategia giusta per vincere le battaglie e sconfiggere gli avversari Poi la musica, il design dei personaggi è veramente incredibile Il tutto dal vita ha un mix spettacolare Bello da vedere, ma soprattutto stra divertente da giocare Io ve lo consiglio Quindi ragazzi vi lascio il link in descrizione Utilizzatelo per supportare il canale Ma soprattutto utilizzando anche questo codice avrete un super bonus Ma adesso torniamo al video Dislight, scarica adesso Si va ragazzi, spendiamo 15.000 soldi Per, ma do, oh ma sempre il 4222 me dà E io sempre il 4222 me prendo Ce siamo, adesso FIFA, è maggio inoltrato Sono uscito, mo dammi i dots almeno Capitano, uuuu Cioè dammi i dots, 4 oro rari Vabbè, ah tra l'altro ragazzi riesco pure mezzo a spizzare Oh no, però così è un po' Riesco mezzo a spizzare la posizione 90 ED? Credo che sia Vabbè per forza E no così è un po' una merda Aspetta, aspettate ragazzi Lo devo un attimo aggiustare Oh la magia è avvenuta Mezzi tecnici professional Ok ragazzi Vabbè qua abbiamo spizzato In realtà non me ne ricordo una Vado con quello con l'overall più alto In realtà perché abbiamo visto che è ED Questo probabilmente è Sadio Main Ma ne, ma ne, lo so ragazzi È più il meme, dai Però essendo ED O va terzino o va fuori rosa Ok, quindi così possiamo prendere qualcosa di meglio Vado con lui 3, 2, 1 Scopriamo ste pipacce al sugo Non era manco Sadio Main Era Sané Non Mané E vabbè Dove va? Terzino destro Ok signori di FIFA Va bene, va bene Allora Poteva iniziare peggio Però All'attitime le divita forte Bravo così Me lo divita forte Allora abbiamo un 92 È oro raro ragazzi Questo è Lewandowski Lewandowski però abbiamo trovato Sané Il 90 Potrebbe essere tutti O nessuno O l'iconcina Non è un 192 Quindi mi prendo l'iconcina Perché almeno un po' di intesa Me la fa Quindi costruiamo sull'intesa Attaccante 87 Sarà una busta di fave 3, 2, 1 Chi è? Ma questo che sarà? Questo sarà tipo 87 Ma sarà un mid? Non ci voglio pensare che il prime suo è 87 Ma sei veramente orribile Vabbè E viva i draft Questo dovrebbe essere pure buono 87 Non è che è giacomino questo? Allora raga non lo so Prendo lui 91 Con la valutazione più alta Perché COC Secondo me potrebbe essere KDB Vabbè prendo lui perché mi aggrada 3, 2, 1 Vabbè Avers Avers No era Elmas Vabbè non ci fa niente Aspetta raga Ma Ste tre linee Arancioni così A casissimo Va bene Va bene Me li prendo Vado con l'altro attaccante Ovviamente arriva la pippa Aspetta 92 Pure un altro 92 Allora ragazzi Adesso si vede la differenza tra gli uomini E i ragazzini 92 sperando Mbappé Vai viva Vabbè Di Pai Statisticamente era buono Vada Ma no Harry Kane Però Harry Kane Me fa link verde Vabbè allora ragazzi Sto a fare i draft al buio Cioè non si sa Vabbè Veramente Veramente Non si sa Questo draft al buio Migliore della storia 3, 2, 1 Vai FIFA Oppure questo è buono Guarda che cacchio Me stai a dire 93 93 potrebbe essere Neymar Sì Questo è Neymar Questo è Neymar Quello verde Oso 93 HITB Non era Neymar Ma va bene lo stesso Cioè proprio Raga ma sto a fare i link Sto a fare i link Con un draft al buio Stiamo Scarsiamo Vabbè Vabbè il culo finirà Prima o poi ragazzi Il culo finirà 3, 2, 1 Ecco questo è già una pippa Maggio FIFA I Dots Vabbè qua ragazzi Guarda premio lui Che è l'unico oro raro Che devo prendere Che ne so Che è 73 FIFA Ma 4, 75 Vabbè 76 Ah no Uniega linkava E vabbè Calvac Calvac non lo sa manco Lui in do gioco Ci siamo giocati uno spot Però possiamo aggiustarla Cioè voglio dire Ecco un'altra busta De Fave E vabbè E qua ragazzi Andiamo sempre con i più forti Che vedevo dire Però cdc83 Sai che questo È Alland Sì vabbè ciao Allora o è Witzel O è Allan Oppure può essere quello lì Del Tottenham Sì vado con l'83 Non l'ho preso Però Fernandinho How will take it Guarda qua Ma sto link verde Oh ragazzi Vabbè sì questo link Per forza Sta impazzendo ragazzi Dammelo buono Dammi Naiko 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 Aspetta però Essendo oro rari Allora 88 Credo che sia Sergio Ramos 86 Uno dei due È Varane Potrebbe esserci Skrignar qui in mezzo Questo potrebbe essere Tiago Silvia Ragazzi Scommetto su Varane Però potrebbe essere Uno dei sti due Fuck Dio di FIFA Dammi la soluzione Vado su questo Varane 3 2 1 Ci ho pensato che era Gulliba lì E ho pensato pure Vado su Tiago Perché almeno L'85 so che è Tiago E linkava Che cacchio linkava bene Cavolo Vabbè No infatti Non devo più rischiare Non me la devo più rischiare Lascia la strada vecchia Per la nuova Sa quello che lascia Ma porco 2 78 Minx Mi sta bene Minx Vado col sinistro Oh questo è forte Roberto Carlos E dai Un 92 Terzino sinistro Non mi interessa Chi è Me lo prendo I will take it Yes Vado 3 2 1 Forse Roberto Carlos Davvero tipo prime moments Erano tutti buoni Ma Roberto Carlos È ancora più buono Ora portiere Esageriamo Cristina Davena Eh non lo so ragazzi Chi c'è Allora 84 Sicuramente qua a mezzo Ci sta l'edesma Della liga 81 non lo so Prendo questo Vabbè tanto Nessuno avrebbe linkato Buono Devo dire Devo dire Meglio De quanto pensassi Cioè nel senso 1 2 3 Se prendono il volo Siamo contenti Quindi io partirei subito Al centrocampo Senza neanche pensarci Vado avuto Oh è buono Icon per favore Allora Questo qui è Che cacchio ne so 89 Eh qua è troppo difficile ragazzi Se solo giocassi a FIFA Saprei chi è Questo 88 Dell'Atidas Non lo so Centrocampi Oh è di Avarà Della Roma Che linka con Calidù Dai rischiamo C'è la 3 2 1 Lo sapevo Lo prenderemo questo Ragazzi Giuro che volevo prenderemo questo Eh Fofanà Vabbè Fofanà Una bella sostituzione Vabbè Prendevo quel maledetto De Fernandinho Che stavamo a pace 87 87 Senza pensarci 3 2 1 Eh capisci Guarda quel riso Come se la ride Quello era dell'Atidas No quello di prima No raga Mossa ma fa le scelte sbagliate Prendevo riso L'avevo fatto Invece ho preso Renato Aggiustiamola la difesa ragazzi Dai Difesa siamo messi bene Forse il terzino destro Oh questo Aspetta Questo potrebbe essere Come si chiama quello lì Vabbè Il terzino Quello matto 5 piede skill Dai avete capito Atal 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 Vado qua dal proposito Atal Diego Carlos Eh Tierney era buono Vabbè Diego Carlos Diego Carlos Che linka verde Col portiere Vabbè Vabbè Se me parte Minx Difensore buono Difensore buono Vabbè 82 Vabbè Traore Aspetta Traore Meno che non se fate questo Vabbè 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 Portieri Dai ragazzi Facciamolo veloce Comunque ti dirò Una squadra assolutamente utilizzabile 90 if Che è l'orcazzo di Navas Vabbè Che è l'orcazzo di Navas Poteva pure funzionare Però Beh La disesa è quella Mi serviva uno della premia Mi usciranno dei pute Uuuuh 91 93 If 85 chi può essere No 85 Questo è un hero Quindi lo lasciamo là 93 o 91 93 molto forte Forse 93 93 3 2 1 Nei marsito Forse Salah Era meglio Però Cahill Forse era ancora meglio E vabbè Nei marsito Bella sostituzione Dai Vabbè Dai raga Mi sta di bene Secondo me Faccio pure un draft Alto di overhaul E qui non posso Non prendere il 92 Secondo me Questo qui è il terzino O potrebbe essere Florenzi No 92 Dai raga Ormai ho sgravato Sgravamo fino alla fine 92 Fernand Torres Eh che cacchio Mazza Florenzi Pensa se prendevo Florenzi Fernand Torres Forte pure questo Oh vabbè Tutti forti eh Non trova spazio però Forte pure questo Icon per favore Allora 87 Ti ricordo 72 lo lascio là Eh questi tre Mi ingolosisce questo eh Però no vado su quest'altro Perché sono un pazzo Vabbè Non ci facevo niente Vai 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 Buono pure questo Dai FIFA Te prego E svolta me sta carriera Allora 89 Non so chi sia Lo lascio là Raga la Champions League Oggi mi arrapa 3 2 1 vado Dai comanna era ottimo Nasce rotondo Non può morir quadrato Di qua Eh in modo ragazzi Sono tutte pippe Prendo il 79 Anzi Prendo il 78 Perché No Prendo il 79 Porco 2 Ueva No aspetta Non lo vi Ecco 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 Prendo questo 84 Ragazzi Ormai Sono saltati gli schemi Vabbè No ci faccio un cacchio E ultimo Ma non ultimo Un icon Vi chiedo tanto Un icon Maggio FIFA 22 Per cornetto Oh comunque ragazzi Se l'avessi visto Sto draft Sarebbe stato da paura Allora in questo momento Siamo messi così Però vediamo se Che ne so Far scalare i giocatori Se aumenta almeno L'overall Almeno a 89 Ci possiamo arrivare Come si può aggiustare L'allenatore è quello che è Mamma mia Manco l'allenatore Mi ha droppato Ma vedrò ragazzi Giocabilissimo Perché Oddio Do fa un po' dei cambi Allora la difesa Ok L'attacco fa veramente ride Vabbè Però a un certo punto Buttiamo Fernand Quanto c'ha De piede debole Possiamo buttare Fernand Torres Lì davanti Facciamo uscire Uno desti due Catamarani Neymar Fernand Torres Lì davanti E rimaniamo così Oddio Ciccice manca Vabbè Quadrato a centrocampo Pure ci metto KDB Sì no Ce l'ho le soluzioni Vabbè Facciamoci qualche partita Allora Il mio primo cambio Sarà Fernand Torres Al posto di Fernandinho Ok KDB che scala Oh ragazzi Io non becco una squadra Con i Toz Cioè Ma l'hanno messi No ragazzi Lui proprio Lui mi fa veramente Cacare Pensavo come stesse Per ricallare la partita Uh In mezzo a tre Fermatelo Ovviatelo Wow È quello là Ma che cacchio Sta succedendo Ragazzi Ma figo È Robocop Ma va Ma va Guarda come mi scherza Vabbè Ok Non ho toccato la palla Va bene Va bene Adesso però Ce l'abbiamo anche noi Nemarzito Quando uscirà Toz Sarà qualcosa di assurdo Se uscirà Toz Ma penso che sì Vai Nemario Non parte Nemario Lento Va bene Lento E Regain Nella stessa frase Vai Harry Vai Uraguano Uragano Nemar 1 a 1 Un po' Rincoglionito E poi Nemarzito Vai 1 a 1 Ragazzi Nemarzito Oh basta Ragazzi Qualcuno fermi figo È vero che in difesa Ragazzi stiamo a giocare Con Fofana Quindi non è che ci possiamo Aspettare anche Però Sta a dice lungo Sul mio draft Oh Il pistolero Vai Vai sceriffo Vai sceriffo Fermati e tira tu Eddie bro Kevin Ebron Oh No Vabbè È andata così È andata così Roberto Carlos La vuole lui Che invece la do a lui 6db verso Arricane No ho sbagliato tutto Oh ma regà figo è ovunque Figo è con noi Regà adesso se vi girate C'avete figo dietro E non è proprio una cosa bellissima Insomma Bono Ci mette la mano Bravo Bono No no figo No no Non date palla figo Ok Rigore Rigore albero Rigore Eh rigore 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 Eh mi sono sbagliato Eh Vabbè Nei marzito Lui dice aspetta Aspetta Oh L'un tira Aspetta 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 Tutto questo Lo so distratto Ah Scemo Scemo Vai pistole Vai pistole Vai pistole che l'hai visto Vai pistole che l'hai visto Nooo Cristina d'Avena Ma perché non ha tirato A me si è rotto il pad Per forza Ci deve stare una spiegazione Analogica Per questo errore Guarda che break KDB Bravissimo Manda l'uracano Che mandano i marzito Stavolta non la sbaglia Eh Eh no Stavolta non la sbaglia Te l'ho detto E mo gli esulto in faccia pure io A far pagliaccio E il pagliaso Quanto è bello Gaia Vers L'uomo di mister spettacolo Più di chiunque altro No no Fermate figo No Non lo puoi Non gliela puoi togliere la palla Figo Non gli puoi togliere palla Figo Guarda lì Vabbè figo Mi hai rotti le scatole Guarda Regà sta fascia è maledetta Basta Ho deciso Cioè non strusciamo un pallone Tra l'altro perché Roberto Carlos Dovrebbe essere l'uomo sul primo palo Vabbè Non lo sapremo mai Non lo vogliamo manco sapere Ti dirò Aferran si chiama No Fernand Però pure Fofanà Non si fa ghiacchiera dietro Eh Soon La va a prendere Kane Dice a me io ne favo un'arte di due O altri due no Però Bella questa eh E ritendo e scherzando Guarda che Enrique Non è male Non corre È un tronco È un tronco Mamma ma Regà Entrava questa Se spingiano le luci allo stadio Oh Oh Pure Roberto Carlos Cerca gloria Mi ha infragato la memoria Mi piacciono le sbarbine Le sbarbine sono bionde Le sbarbine sono more Le sbarbine sono tante Le sbarbine Oh Vabbè raga 3 a 1 Comodo Guarda Totalmente comodo Che mi bevo un caffè Ne è marzito Ne è marzito 10 tiri Posso ancora migliorarla Questa squadra Magari renderla ancora più esotica Al limite potrei far usci Kane Mettere Avers davanti Ma secondo me ragazzi Avers Tra l'altro corre un sacco Che bravo Bravo ne è mar Così mi piace Vai tranquillo No Ho scamorzato Vabbè Meno male che questo è scherzo E qui me la so pappata ragazzi Ammetto Qui C'è stato un errore Da parte nostra Di valutazione Tecnico Tattica Mazza il bel calcio Vabbè Alla difesa questa C'ho là E si guitta Si va Alle dom Grazie mille Ciao addio Ragazzi Ve l'avevo detto Secondo me Questa è una squadra Forte Che per essere stata Creata al buio Veramente forte Voleva che L'unica icon Che c'è uscita E' una busta De fave Ah no E' vero Le sono uscite due Uuuuuh C'ha Bright pure lui E allora ragazzi Esce Il mio esce Il mio esce E me ne frega niente Il mio esce Grazie mille Grazie mille Adios Adios Ho visto Fright Tanto ragazzi Stemma del Napoli Vuol dire che bisogna Trajardare Però Sì sicuro lui Jonathan David Questo se è possibile Ha fatto un draft Peggiore del mio Ma guarda Veramente ragazzi Ma come si fa FIFA Che mi ricordo Alla fine di FIFA Uscivano le peggio carte Ma non esce niente Ah Roberto Carlos E' la roba Si è scordata la palla però Mamma mia Versa Che hai visto E' Alberos Alberos E' Fischia Grande Bright Mamma mia Che tronco Pazza David Ma ha circunnavigato Bono Con la mano Con la mano Ecco Comun'entrano quelli forti Attenzione Adesso si gioca a serie Spring boost Van Dyke Tutto regolare E' la scappellata Ci vai vai Signor Harry Kane Vada Non ci incischi Uuuu Non ci incischi Vada E' numeri E' vabbè ma No dovete andare Non ci credo Mike Non ci credo Mike Ce n'era uno solo suo Odaloo Va bene Va bene Fuori gioco Albero Che cosa un po' Bislacche che succedono In questo video Gioco No Nemar Ti ferma Questo è fuori gioco Ah è un albero Oh Ma che bisogna succedere Che deve succedere Pistole Mannaccia Non è pistolero E' il giudice Kayaverse Lo sanno tutti Che è il giudice E mette la sentenza Un nap Anche se ha segnato Uno spagnolo ragazzi Questo dovrebbe essere Deleterio Per la mia figura Però dai Era solo una questione Di tempo Mamma mia ragazzi Ma è ovunque Sto ragazzo E' Merz Oh 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 Gianji mi dispiace Ma questo è il giudice E' un pazzo Poi lo sappiamo Un break dance Ma quando l'avrò mai fatta St'esultanza E' Merz Che è successo La valla è passata Procollini Dici E' asciuto Ho messo tutto in croce Addio grazie Il lion e il riusci Quindi ragazzi Questo video Vi dovrebbe insegnare una cosa Che a volte La dea bendata Decide meglio Dei draft Che ci mettiamo lì Con il goniometro A farli fatti bene Come continuerà Non lo sapremo mai Perché tanto lo equito Suggeritemi sotto nei commenti Che altri draft fare Perché sono divertenti Un saluto a tutti E mi ciao ciao Alla prossima Ciao ragazzi Ciao